Salve a tutti e benvenuti su AllPizTV, all Furio Tato, prima o poi viene pure tu su AllPizTV. Andiamo ad un'altra piccola canzone in Cina dal titolo bronzo. Uno, due, tre. Nel giorno della festa locale hanno avuto il coraggio di uscire di casa e sfilare, sfilare, mentre nelle condizioni che il paese non si può guardare, non si può guardare. Questi sono i burattini con la faccia di bronzo che ci tocca sopportare, che ci tocca sopportare. Ma per loro il problema è uno solo, vedere come fare per arraffare il malloppo ogni mese, ogni mese. Se poi è ancora tutto rotto, tranquilli col tempo, si troverà il modo per sistemare, per sistemare. Ma calmi non avanzate tante pretese, state calmi non avanzate tante pretese. Ci vuole del tempo, tanto tempo, è lunghe ma lunghe attese. E la procedura dei miseri burattini radicati, ingollati alla poltrona di questo paese, di questo paese. Nel giorno della festa locale hanno avuto il coraggio di uscire di casa eppure sfilare, eppure sfilare, mentre nelle condizioni che è il paese non si può guardare, non si può guardare. Questi sono i burattini con la faccia di bronzo, che ci tocca sopportare, che ci tocca sopportare. Ma per loro il problema è uno solo, vedere come fare per arraffare il malloppo ogni mese, il malloppo ogni mese. Se poi è ancora tutto rotto, tranquilli col tempo, si troverà il modo per sistemare. Ma calmi non avanzate tante pretese, state calmi non avanzate tante pretese. Ci vuole del tempo, tanto tempo, è lunghe ma lunghe attese. E la procedura dei miseri burattini radicati, ingollati alla poltrona di questo paese. Povero paese, allpits tv, all for you, tanto prima o poi viene pure, tu, puoi ricevere l'estate, ma quando mai? Cavallaro gigante per tutto quanto, con questo viso lo devo rimandare alla prossima, come sempre, allpits tv, all for you, tanto prima o poi viene pure, tu, arrivederci. Grazie. Grazie.